Come abbiamo chiesto, più volte è giusto che ci siano dei controlli che vadano a colpire i cosiddetti furbetti dei plateatici per evitare che chi lavora nel rispetto delle regole venga penalizzato. C'è il plauso della Confesercenti di Venezia al giro di vita nei confronti dei locali che non rispettano le regole. In un territorio che ha un bar ogni 50 abitanti, l'ampliamento o la concessione per Covid dei plateatici è stato un ambito in cui diversi pubblici esercizi hanno oltrepassato i limiti concessi. Dall'inizio dell'anno, e non solo per questo motivo, le sanzioni sono arrivate in 26 casi alla sospensione dell'attività. Siamo arrivati alla chiusura di alcune attività perché queste persone erano state già avvisate più volte e come ho detto prima è giusto nei confronti degli esercenti che lavorano nella legalità. Intanto la ripresa del lavoro a ritmi piuttosto sostenuti non significa che le difficoltà siano state superate sia perché le conseguenze del Covid pesano ancora sui bilanci dei pubblici esercizi sia perché si stanno già iniziando a scontare le conseguenze di altre crisi. I due anni di stop hanno fatto sì che le aziende si indebitassero quindi abbiamo sia lo stop, un mancato introito, e sia un debito che adesso devono essere ripagati. La luce è aumentata quasi del doppio e le materie prime adesso stanno aumentando di parecchio. Venezia comunque ha ripreso a popolarsi, perlomeno per quanto riguarda l'estate la stagione ha più o meno rispettato le aspettative. La stagione sta andando bene, è ripartita, se parliamo di fatturato siamo in linea con il 2019. Non abbiamo gli stessi riferimenti che avevamo un tempo perché questi due anni hanno scombussolato un po' i parametri. Diciamo che dobbiamo far sì che il livello del turismo si alzi un po'. Grazie. 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 Grazie.